Buongiorno a tutti, sono Shark Marzi. Volevo solo fare un piccolo avvertimento. Se il 4 maggio ci sarà la riapertura totale, passeremo luglio, giugno, luglio e agosto in casa, sul balcone. Altro che mare, ferie, spiagge e gite. Questo era solamente un avviso. Attenzione, il virus non guarda in faccia a nessuno. Io, come potete vedere, sono sul balcone di casa. Un saluto e pensare. Arrivederci.